Ehi! Sei tornata, lo sapevo. Mamma sta male. Annetta. Sherry, Sherry. Come ti senti? Sto bene. Tu invece ti senti male? Mamma! Ehi. Devo vedere lo schermo. Oh, grazie a Dio. Sherry, se la caverà. Sarà debole per un po', però... Sì. È guarita dal virus G. Hai sentito? Cosa è successo? È stata attaccata dal mostro. Non preoccuparti per me. Porta, mia figlia. Assicuro. Scusami, Sherry. Per tutto quanto... la tua vita è più importante. Non possiamo lasciarla qui. Sì. Sì, hai ragione. Attenzione. Rilogata rimozione non autorizzata di un virus di livello 4. Che succede? È iniziata l'autodistruzione. Si attiva se il virus esce dall'edificio. Ti prego. Salva mio figlio. No! Sherry. Sherry, devi salutare la mamma. Avanti. Dobbiamo andare. Ti prego, Sherry. Ascolta. Ti voleva bene, sai? Ma ora dobbiamo andare. Forza. Per la mia figlia. Attenzione. Non ti sono mai riuscita. Non ti sono mai riuscita. Non ti è riuscita. Avvio isolamento strutturo. Al termine. Per la mia figlia. Avevi ragione sulla giacca. Sono fortunata ad averti. Ascolta, ne parliamo più tardi. Dobbiamo andare. Forza. Per la mia figlia. 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 Ce' la fai, er? Camminare più veloce. Si. Scusami, piccola, ma dobbiamo sbagliarci. Altre, verrà via... Attenzione! Sequenza di autodistruzione avviata. Utilizzare immediatamente l'ascensore centrale per raggiungere il piano inferiore. Attenzione! Sequenza di autodistruzione avviata. Utilizzare immediatamente l'ascensore centrale per raggiungere il piano inferiore. Attenzione! Sequenza di autodistruzione avviata. Utilizzare immediatamente l'ascensore centrale per raggiungere il piano inferiore. Attenzione! Sequenza di autodistruzione avviata. Utilizzare immediatamente l'ascensore centrale per raggiungere il piano inferiore. Grazie per essere gentile con me. Per avermi salvata. Sono felice di averti incontrato. Sono felice anch'io, Sherry. Adesso pensiamo a uscire da qui. Per raggiungere il piano inferiore. Attenzione! Sequenza di autodistruzione avviata. Utilizzare immediatamente l'ascensore centrale per raggiungere il piano inferiore.